benvenuti a fly fishing dolomiti speciale tecnica oggi parleremo delle code di topo della ospt scagit sono lense scagit con un profilo una pancia piuttosto corta vendono vendute già con due asole alle varie estremità alle quali andrà applicata da una parte la running line e dall'altra il terminalino movt per consentire una perfetta distensione nel lancio le running line sono in nylon particolare alta visibilità molto morbido che comunque non ha memoria e quindi consentono nello shoot di raggiungere distanze notevoli l'unica accortezza può essere di stare attenti perché i diametri piuttosto sottili rendono difficoltoso il maneggiamento durante l'azione di lancio quindi attenzione a non farlo scivolare o comunque non ingarbugliare magari nel mulinello ci sono i movtipi finali da applicare alla punta della coda di topo che possono avere vari gradi di affondamento e vari e vari pesi logicamente tutti i sistemi devono essere proporzionati poi alla canna che andrete a utilizzare cliccando qui troverete una tabella che vi dicherà la scelta giusta e appropriata a seconda della canna che andrete a utilizzare quello che vi posso consigliare magari di stare leggermente più sotto anche alla tabella in quanto poi applicando il finale aggiungerete comunque del peso queste code di topo sono nate per utilizzare una tecnica particolare di lancio lo scagita appunto che dovrebbe consentirci di poter lanciare anche a ragguardevoli distanze pur avendo ostacoli alle spalle e comunque artificiali voluminosi noi le utilizziamo molto per la pesca stream degli aspi e delle marmorate un grosso vantaggio che avendo una belly molto corta consentono di recuperare lo streamer fino quasi praticamente sotto i piedi dove spesso l'attacco si verifica e di lanciare poi immediatamente essere subito in distanza in pesca quindi consentono un'azione di pesca pressoché perfetta noi spesso le utilizziamo anche con attrezzature leggere quindi due mani massimo coda 6 7 switch 6 7 o anche cane una mano 5 6 possono comunque essere utilizzate anche per pescare luci boccaloni la facilità del lancio la proiezione delle esche voluminose probabilmente aiuterebbero moltissimo anche in questo tipo di pesca sperando di esservi stato utile non mi resta che salutarvi e sicuramente se avete qualsiasi dubbio contattateci in quanto potremo darvi migliori informazioni a seconda delle vostre esigenze ciao ciao